Musica Ritorna cari amici di Padre Pio TV L'appuntamento del sabato con Shema Quest'oggi con Fra Claudio Passavanti La nostra guida in collegamento Skype da Torino Buongiorno Fra Claudio e ben ritrovato Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche a voi Sono contento di essere di nuovo online assieme a voi, grazie Beh, Fra Claudio, com'è passato queste vacanze natalizie? Ma bene, come tutti, tra Eucaristie, momenti di preghiera Anche momenti di tranquillità, in fraternità e con la famiglia Credo come un po' tutti, ma è andato bene, grazie Bene Fra Claudio, dicevamo qualche settimana fa In chiusura delle dieci puntate dedicate ai dieci comandamenti Appunto, che saremmo ripartiti subito dopo le feste natalizie Con delle puntate speciali E sarà il Papa la nostra guida, possiamo già dirlo Bene, sono contento, almeno siamo in mani sicure Siamo in mani sicure perché vogliamo approfondire un tratto poco conosciuto Del Magistero di Papa Francesco Il Magistero che egli ci detta ogni mattina dalla Casa Santa Marta Dalla cappella della Casa di Santa Marta Sappiamo che da quando Papa Bergoglio è stato eletto al Soglio Pontificio Il suo Magistero si svolge sì in mezzo alla gente Ma quotidianamente con la messa delle ore 7 Attraverso le sue omelie Papa Francesco ci offre delle riflessioni pungenti E quest'oggi vogliamo proprio dare spazio A partire da questo sabato a queste omelie Ah, è una cosa interessante, una bella idea Anche perché accolgo volentieri questo invito Ad essere qua con voi per questo spazio E con il dedicato Papa Francesco Perché è vero, l'hai appena detto Questo Magistero quotidiano È lì che si gioca Noi siamo abituati ai Papi che fanno i grandi proclami Ma poi è nella vita di tutti i giorni Che si vede lo spessore di una persona E anche di un Papa a questo punto Quindi ben vengano tutti questi interventi E queste omelie che tutti i giorni fa Santa Marta Magari un giorno riuscissi anch'io Andarlo a sentire di persona Eh, ci risulta essere molto difficile Partecipare a queste celebrazioni Però vediamo, non mettiamo limiti alla provvidenza Magari ci andremo insieme un giorno Chi lo sa, magari Bene Fra Claudio Quest'oggi vogliamo cominciare la trattazione delle omelie di Papa Francesco Attraverso alcune omelie più significative Alcune più incisive E in maniera particolare Visto che siamo ancora nel tempo di Natale Si concluderà domani con la festa del Battesimo del Signore Vogliamo ancora approfondire questa tematica dell'incarnazione del Natale Che Papa Francesco quotidianamente ha trattato Durante le omelie del tempo di avvento in particolare E vogliamo cominciare con l'omelia del 16 dicembre Ascoltiamo subito le parole di Papa Francesco E poi rientriamo qui nei nostri studi Per commentare brevemente quello che ci ha detto Quando nel popolo di Dio Non c'è profezia Questa Il voto che lascia quello Viene occupato dal clericalismo E' proprio questo clericalismo Che chiede a Gesù Con quale autorità fai tu queste cose Con quale legalità E la memoria della promessa E la speranza di andare avanti Viene ridotta soltanto al presente Né passato né futuro speranzatore Il presente è legale Sei legale e vai avanti Quando nel popolo di Dio Eh sì perché è una Ha detto delle cose molto belle E davvero il profeta Deve avere questi tempi Deve dare una memoria del passato E dal passato si fa memoria Il popolo di Israele ha fatto questo E ha fatto memoria là Quando c'era difficoltà Però è chiaro che si deve Lui ha usato una parola interessante Contemplare il presente Contemplare vuol dire mettere dentro Va a che fare col tempo Cioè con noi stessi Quindi si contempla il presente Ma per andare verso il futuro Anche se Dio si incontra nel presente Però non basta avere solo il presente Perché altrimenti si Ecco si rischia di andare nella legalità Si rischia di non vedere Nel prima nel dopo Quindi si rimane soltanto all'ora Al momento presente Questo e questo non va bene Perché si perde proprio Il senso della profezia Cioè si sente Si perde Da dove si è venuti E in che direzione si va Guardare solo all'oggi In fondo il Papa dice questo Rischia ecco di essere una cosa molto Ecco lui la chiama clericalismo Quindi una persona che si struttura Che rimane molto molto Etichettata molto nei Come possiamo dire Con dei paletti E una persona che Che guarda solo all'oggi E Papa Francesco dice proprio La fecondità che viene dalla forza di Dio Quando lui ci risveglia La memoria della sua promessa E ci spinge verso il futuro Con la speranza Questo è il profeta Esatto esatto Ci spinge E abbiamo bisogno di profeti Davvero tantissimo Perché oggi Ci sono i profeti E credo che Papa Francesco Sia anche uno di questi E dobbiamo soltanto ascoltarli Dobbiamo soltanto riconoscerli E ascoltarli Ma lui ci ha dato indicazioni Come ascoltarli E come riconoscerli E infatti la preghiera Che poi Papa Francesco Pronuncia Per così dire In conclusione di Omelie È proprio questa Signore Che non manchino i profeti Nel tuo popolo Perché tutti noi battezzati Siamo profeti ovviamente Esattamente Esattamente E quindi L'essere Sardotti Re e profeti È quello che nel battesimo Ci è stato consegnato Ecco L'essere profeta È colui che sa A un certo punto Dare una parola di speranza Là dove sembra Non esserci più nessuna speranza È davvero Nel battesimo Ci è stato consegnato È come questo seme Che ci è stato messo dentro Noi dobbiamo farlo crescere Bene Fra Claudio Vogliamo tornare indietro Di qualche giorno Rispetto al 16 dicembre In maniera particolare Al 12 Ascoltando proprio Le parole del Papa Nell'Omelia Durante la celebrazione Eucaristica Nella Casa Santa Marta Quando Guardiamo un papà Una mamma Che parlano Al suo figliolo Noi vediamo che Loro Diventano piccoli E parlano con la voce Di un bambino E fanno gesti Dei bambini Anche Uno che vede di fuori Può pensare Ma questi fanno Il ridicolo Si rimpiccioliscono Proprio lino Perché L'amore L'amore Del papà E della mamma Hanno Necessità Di avvicinarsi Di Dico questa parola Di abbassarsi Proprio Al mondo Del bambino Se papà E mamma Le parlano Normalmente Il bambino Capirà lo stesso Ma loro Vogliono Prendere Il modo Di parlare Del bambino Si avvicinano Se fanno Bambini E così è il Signore Bene cari amici Fra Claudio Anche Queste parole Del Papa Ci colpiscono In maniera Prepotente Perché Durante l'Omelia Appunto Del 12 dicembre Come dicevo prima Papa Francesco Affronta Un altro Argomento Importantissimo Che Lui definisce Con una parola Greca Ben difficile Che io Non sto qui A pronunciare Fra Claudio Cioè Spiegandola La condiscendenza Di Dio Che discende A farsi Come uno di noi E qui Papa Francesco Fa un esempio Quotidiano Molto bello Sì La parola Era Sin catabasi Se ricordo bene Ecco E questo Piegarsi Questo Dio Che Si Si piega Verso L'umanità Ed è bello Quello è il segno Dell'accoglienza Pensiamo anche Tutte le nostre icone Di Maria Così E Maria Sempre curvata Cioè Il segno Dell'accoglienza Nell'iconografia È sempre Quello Verso Il curvarsi Ma quante volte Gesù ha fatto questo Questo è il segno Della tenerezza Questo è il segno Dell'accoglienza Ma è il segno Anche di un grembo Gravido Che accoglie Un grembo Che sa accogliere Qualcosa di grande E questo è quello Che il Papa Papa ci stava dicendo In questo omelia Papa Francesco Dice proprio L'amore del papà E della mamma Ha necessità Di avvicinarsi Di abbassarsi Al mondo Del bambino E si avvicinano I genitori Si fanno i bambini Si fanno bambini E così è il signore Sì esatto È bello pensare Abbiamo appena Vissuto il Natale Stiamo concludendo Questo tempo di Natale Dove Ecco Il signore Ecco Si diventa bambino Nasce bambino Proprio perché Vuol prendere Questa tenerezza Dell'umanità Vuol farla sua Perché poi La porterà avanti In tutta la sua vita Lui quante volte Si curverà Come i magi Che abbiamo lasciato La settimana scorsa Come i pastori Si sono curvati Sul presepe Quando l'hanno accolto Quando l'ha visto La madre stessa Ecco Così anche lui Poi si curverà Sull'umanità sofferente Iniziando Dai suoi discepoli A lavargli i piedi Così si curverà Sull'umanità La fine della sua vita Sulla croce Ed è bello Anche quando il Papa Dice Magari anche un po' Prendendo in giro I genitori Quando Chiamano i propri figli Con dei vezzeggiativi Tipo Amore mio Giocattolo mio Il Papa dice Anche il Signore Fa così con il suo popolo Dicendo appunto Vermiciattolo di Giacobbe Tu sei come un vermiciattolo Per me Una cosina piccolina Ma ti amo tanto Il linguaggio del Signore Il Papa dice Il linguaggio d'amore Di padre E di madre E qui ricorre un po' La famosa espressione Di Papa Giovanni Paolo I Dio è padre Ma è anche madre Ah certo Dobbiamo sempre Tenerlo presente Che è un padre Ed una madre C'è questa ambivalenza C'è l'affetto La tenerezza Della madre C'è però anche L'austerità del padre Ci sono tutte e due In Dio Ma tutte e due È vero È bello Questa espressione Del vermiciattolo Ma poi È un'espressione Che lui stesso Gesù Usa nei confronti Di Dio Quando lo chiama Abba Padre Papà Paparino E anche quando Chiama i suoi discepoli Figlioli Tante volte Viene in questi giorni Nelle lettere Giovanni L'Evangelista Riporta questo termine Figlioli Che ha sentito E ha imparato Da Gesù È un linguaggio Di tenerezza Questi viziativi Questi modi Di dire Così ci stanno Anche nel nostro linguaggio E lasciano trasparire E tradire questa tenerezza Che il Signore È anche per noi Ecco Vogliamo tornare Fra Claudio Indietro Ancora una volta Il 10 dicembre Ricordiamo i nostri amici Stiamo analizzando O meglio Trattando E traendo Delle riflessioni Dalle omelie Che Papa Francesco Pronuncia quotidianamente A Santa Marte In questo primo numero Del nostro speciale Scema Sempre Scema Sempre riferito Alla dimensione Dell'ascolto Vogliamo appunto Ascoltare Per così dire Le parole Che il Papa Ci ha detto Da settimana prossima Poi riprenderemo Con le omelie Settimanali Trattando in maniera particolare La settimana di riferimento Che vogliamo darci E vogliamo tornare Al 10 di dicembre E ascoltare Le parole del Papa Relative Proprio Alla messa Celebrata In quel giorno E qui il Papa Fa dei riferimenti Molto belli A quella che è La ricreazione Che il Signore Compie Nella vita Di ciascuno di noi Il Signore ricrea le cose Dice il Papa La Chiesa La Chiesa Non si stanca Di dire Che questa ricreazione È più meravigliosa Della creazione Il mistero Che abbiamo celebrato Nel Natale Farà Claudio Eh sì In tutte le E anche i Vangeli Salta fuori Soprattutto nei Vangeli Di Natale Nel giorno Anche della Seconda Domenica Dopo Natale C'è questa Questa attenzione Alla ricreazione Ci viene dato Proprio dal Prologo di Giovanni Dove si parla Del principio In principio C'è il verbo Nell'inizio C'è una creazione In Genesi Quindi La creazione Continua Si ricrea In Gesù Ogni volta Che l'uomo Accoglie l'amore Ricrea qualcosa Di nuovo Questo in fondo È quello che Il Papa Francesco Sta dicendo In questa omelia Il Signore Più meravigliosamente Ricrea Qui sembra Arriccheggiare Anche un po' Le parole Della liturgia Del giorno Di Natale E poi Papa Francesco Fa il solito Elogio Alla speranza Papa Francesco Il Papa Della speranza Il giorno Del suo insediamento Ha proprio detto Non lasciatevi Rubare la speranza La speranza È quello che Contradistingue Il cristiano In fondo Quante volte Anche l'Israel Angelus Dice Dice questo Che avete appena Detto voi Ma dice anche Che un cristiano Che è triste Non è un cristiano E allora davvero Quando è che Una persona è triste Quando manca di speranza E avere la speranza Vuol dire Avere sempre una luce Avere sempre una Trovare sempre una strada In qualsiasi momento Cioè non si può perdere La speranza Altrimenti Come dice la parola Si diventa Senza speranza Cioè disperati Infatti Il Signore Ci consola Con una vicinanza Speciale A ognuno Perché Consola il popolo Il suo popolo E consola Ognuno di noi Ecco Papa Francesco Usa delle espressioni Molto chiare Per definire Quella che è una realtà Molto semplice Nella vita di ogni cristiano Sperare nel Signore Sperare in Dio Certo E anche il tema Della consolazione È molto bello Abbiamo bisogno Anche di essere consolati Ma è questo Quando ci mettiamo Nelle braccia del Signore Allora Ecco che Lui ci guida E Papa porta spesso Anche questa espressione E l'ha usata Più di una volta Che la Chiesa Deve I pastori Devono Sentire E sapere Odore di pecora Quindi vuol dire Che devono guidare Il gregge Quindi ecco Sapere che c'è un pastore Che ci guida Sapere che c'è Qualcuno che Che fa la strada E questo Non può che consolarci Non può che Riempirci di speranza Noi dobbiamo solo fare una cosa Seguirlo E non andare per il nostro conto Altrimenti andiamo da altre parti E Papa Francesco Oltre a queste Omelie Diciamo un po' più leggere Andando indietro nel tempo Fra Claudio Io ho scoperto Che ha dato Delle Delle mazzate vere e proprie Perché se andiamo All'8 novembre Papa Francesco Si scaglia letteralmente Contro Coloro Che prestano Lode alla tangente Coloro che hanno fatto Della tangente Una divinità E qui Papa Francesco Ascoltiamo magari Tra qualche secondo Le sue parole Vuole proprio Fare Una Una sorta di invettiva Contro coloro che Prestano Lode alla tangente Perché Come portare Pane sporco A casa Ascoltiamo le sue parole Veramente dure e incisive Sì questa è una lode Alla tangente E l'abitudine E la tangente E' un'abitudine Mondana E' fortemente Peccatrice E' un'abitudine Che non viene Dio Dio ci ha Comandato Portare il pane A casa Con il nostro lavoro Onesto E quest'uomo Amministratore Lo portava Ma come? Dava da mangiare Ai suoi figli Pane sporco E sui figli Forse Educati In collegi Costosi Forse Cresciuti In ambienti Colti Avevano ricevuto Del suo papà Come pasto Sporchizzi Perché Suo papà Portando Pane sporco A casa Aveva perso La dignità E questo E' un peccato grave Perché Perché si incomincia Forse Con una piccola Bustarella Ma è come la droga Abbiamo appena Abbiamo appena ascoltato Cari amici Queste parole Di Papa Francesco Le ripeto L'abitudine Della tangente E' un'abitudine Mondana E fortemente Peccatrice Un'abitudine Che non viene Da Dio Dio ci ha Comandato Di portare Il pane A casa Come nostro Lavoro onesto Fra Claudio Delle parole Veramente dure Oh sì Ma è bello Papa Francesco Che dia Queste sferzate Mi viene in mente Proprio Il Signore Gesù Quando inizia Nel Vangelo Giovanni Ci viene detto Quando inizia Il suo ministero Che cosa fa Entra nel tempio E butta l'aria Tutto Butta l'aria Quei tavoli Dei cambi avalute E dice Non dovete farla Diventare Una spelonca di ladri La mia casa Che è a preghiera E qui Mi ha l'idea Di Papa Francesco Che dice le cose In maniera molto chiara E senza E mi piace definirlo Il Papa Senza peli sulla lingua Dice le cose come stanno Ed è vero Mamma mia Le tangenti Sporcano Portano davvero Il pane Il pane sporco In casa E un facile guadagno Così Ma è quello Sappiamo bene Lo dice anche lui Nell'omelia Arriva dal demonio Tutta questa cosa La soluzione è facile Quella a portata di mano Spesso e volentieri Non arriva da Dio E se tu vivi In questo E fai il gioco del demonio E fai un gioco sporco Fai un gioco della mondanità E vivi secondo valori sballati Che non sono più quelli di Dio E quindi sono sporchi Perché si incomincia forse Con una piccola bustarella Ma è come la droga Qui non ci sono proprio spazio Non c'è spazio Per nessuna interpretazione Fra Claudio Ma è vero Basta una piccola cosa Se tu inizi da una cosa piccola A farla male Poi fai male anche le grandi E così va anche per il verso Tu inizi a fare una cosa bene Piccola E poi fai bene anche quelle grandi E Papa Francesco ci invita a pregare Perché il Signore Cambi il cuore di questi devoti Della Dea Tangente E se ne accorgano Che la dignità Viene dal lavoro degno Dal lavoro onesto Dal lavoro di ogni giorno E non da queste strade più facili Che alla fine ti tolgono tutto Il cuore di pastore Di Papa Francesco Si vede da queste parole E certo Perché in fondo si accorge Che del resto le parole Non servono Quindi qui ci vuole la preghiera C'è solo la forza della preghiera Che può cambiare il cuore dell'uomo Quando noi non riusciamo a cambiare Con le nostre parole Gli altri Dobbiamo ricorrere alla preghiera E crederci che la preghiera cambia Perché Dio si coinvolge Si immischia nelle nostre miserie Si avvicina alle nostre piaghe Le guarisce con le sue mani E per avere mani Si è fatto uomo Questa è l'omelia del 22 ottobre L'interpretazione l'abbiamo data Tornando indietro di più di un mese Esatto Ed è bello questo Ma Dio da sempre si sporca le mani Si compromette con l'uomo Si sporca Non è un Dio che sta lassù nel cielo E ci guarda quasi impassibile A dire ma questi uomini cosa fanno No 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 Dio si butta nella mischia Anzi si butta così bene Oserei dire che È entrato nella nostra umanità E si è confuso così bene Che non l'hanno neanche riconosciuto qualcuno Quindi ha fatto proprio il suo Si è mischiato proprio bene Dio non ci salva soltanto per un decreto O una legge Ci salva con tenerezza Con carezze Ci salva con la sua vita Per noi Ho risposto ancora una volta a Papa Francesco Esatto Ci salva con l'amore Ci salva proprio con questa Essere in mezzo Con questa vicinanza Bene Fra Claudio Anche quest'oggi Il nostro spazio si conclude qui I nostri 15 minuti sono passati Sono volati Papa Francesco ci ha tenuto compagnia Ci ha aiutato a riflettere Siamo dopo il periodo di Natale Non ci resta nient'altro da fare Che trarre spunto Dalla lezione della grotta di Betlemme E vivere cristianamente La vita di ogni giorno Esattamente Ecco così Poi tornare Su questo Magistero ordinario Ho detto Nell'ordinario Noi ci giochiamo lo straordinario Nelle cose piccole Di tutti i giorni Il santo poi questo Dalle cose piccole Di tutti i giorni Ci prepariamo alle cose grandi Quindi grazie a Papa Francesco Grazie a voi Che ci date questa opportunità Di poter stare Su questo Magistero spicciolo Su queste pillole di saggezza Grandi Di un Papa grande E ricordiamo che Dalla prossima settimana Analizzeremo il percorso Settimanale Appunto Che Papa Francesco Ci offrirà E ci offre Con le sue omelie Dettate durante la celebrazione Eucaristica del mattino Nella cappella Della Casa Santa Marta Grazie mille Fra Claudio Arrivederci La prossima settimana Grazie a voi A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti